ciao sono il dottor max della farma max che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video dove io personalmente vi leggerei bugiardini in questo video ti leggo il bugiardino del farmaco bosentan milan milan italia srl ultimo aggiornamento primo novembre 2021 cosa a bosentan milan confezioni informazioni commerciali sulla prescrizione indicazioni posologia controindicazioni avvertenze speciali e precauzione di impiego interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione assumere bosentan milan durante la gravidanza e l'allattamento effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari effetti indesiderati sovradosaggio proprietà farmacodinamiche proprietà farmacocinetiche dati preclinici di sicurezza elenco degli eccipienti farmaci equivalenti farmaci esteri cosa a bosentan milan bosentan milan a un farmaco a base del principio attivo bosentan monoidrato appartenente alla categoria degli antipertensivi e nello specifico antipertensivi per l'ipertensione arteriosa polmonare e commercializzato in italia dall'azienda milan italia srl bosentan milan può essere prescritto con ricetta rrl medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti confezioni bosentan milan 125 mg 56 x 1 compresse rivestite con film bosentan milan 62,5 mg 56 x 1 compresse rivestite con film informazioni commerciali sulla prescrizione titolare milan s p a concessionario milan italia srl ricetta rrl medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti classe a principio attivo bosentan monoidrato gruppo terapeutico antipertensivi forma farmaceutica compresse rivestite indicazioni trattamento dell'ipertensione arteriosa polmonare da per migliorare la capacità di fare esercizio fisico non cacopiraiti sintomi in pazienti in classe funzionale uili è stata dimostrata efficacia per la primaria idiopatica ed ereditabile a secondaria sclerodermia senza pneumopatia interstiziale significativa associata a schunt sistemico polmonari congeniti e sindrome gaisen manger sono stati dimostrati miglioramenti anche in pazienti con pa in classe funzionale uili vedere paragrafo 51 bosentan milan ha anche indicato per ridurre il numero di nuove ulcere digitali in pazienti con sclerosi sistemica e ulcere digitali attive vedere paragrafo 51 posologia posologia ipertensione arteriosa polmonare il trattamento va iniziato e monitorato solo da un medico che ha esperienza nel trattamento dell'ipertensione arteriosa polmonare adulti in pazienti adulti il trattamento con bosenta dovrebbe essere iniziato con una dose di 62,5 mg due volte al giorno per 4 settimane ed aumentarla poi alla dose di mantenimento di 125 mg due volte al giorno le stesse raccomandazioni valgono anche per la reintroduzione di bosentan dopo l'interruzione del trattamento vedere paragrafo 44 popolazione pediatrica i dati di farmacocinetica nei pazienti pediatrici con padita compresa fra 1 e 15 anni hanno mostrato che le concentrazioni plasmatiche di bosenta erano mediamente inferiori rispetto a quelle riscontrate nei pazienti adulti e non erano aumentate dall'incremento della dose di bosentano oltre 2 mg per kg di peso corporeo o dall'aumento della frequenza della dose da due volte al giorno a tre volte al giorno vedere paragrafo 52 verosimilmente l'aumento della dose o l'aumento della frequenza delle somministrazioni non dovrebbero determinare un beneficio clinico aggiuntivo sulla base di questi risultati farmacocinetici quando usato nei bambini con padita pari o superiore a 1 anno la dose raccomandata iniziale e di mantenimento ad 2 mg bar a kg alla mattina e sera nella pratica clinica usuale nei neonati con ipertensione polmonare persistente del neonato pph n i benefici di bosenta non sono stati dimostrati non si possono fare raccomandazioni sulla posologia vedere paragrafi 51 e 52 gestione in caso di deterioramento clinico della pa in caso di deterioramento clinico ad esempio diminuzione della distanza percorsa a piedi in 6 minuti di almeno il 10 per cento rispetto ai valori riscontrati prima del trattamento avvenuto nonostante il trattamento con bosentano per almeno 8 settimane dose di mantenimento per almeno 4 settimane si devono considerare terapie alternative tuttavia alcuni pazienti che non hanno mostrato una risposta dopo 8 settimane di trattamento con bosentano potrebbero avere una risposta favorevole dopo un trattamento addizionale di 4 a 8 settimane in caso di deterioramento clinico tardivo nonostante la terapia con bosentano cioè dopo diversi mesi di trattamento ha necessario rivalutare il trattamento alcuni pazienti che non presentano una buona risposta ad un dosaggio di 125 mg di bosentano somministrato due volte al giorno potrebbero migliorare la propria capacità di esercizio se la dose viene aumentata a 250 mg due volte al giorno ha indicato effettuare un'attenta valutazione del beneficio barra rischio tenendo in considerazione il fatto che la tossicità epatica dose dipendente vedere paragrafo 4 4 e 5 1 sospensione del trattamento l'esperienza relativa alla sospensione improvvisa della terapia con bosentano in pazienti con ipertensione arteriosa polmonare a limitata non esistono prove a sostegno di un grave rimbalzo tuttavia per evitare un eventuale deterioramento clinico dannoso a causa di un potenziale effetto rimbalzo potrebbe essere necessario ridurre gradualmente il dosaggio dimezzandolo per un periodo dai 3 ai 7 giorni si raccomanda di intensificare il monitoraggio del paziente durante il periodo di sospensione del trattamento nel caso in cui venga presa la decisione di sospendere il trattamento con bosentano tale sospensione va effettuata gradualmente mentre viene introdotta una terapia alternativa sclerosi sistemica con ulcere digitali attive il trattamento va iniziato e monitorato solo da un medico esperto nel trattamento della sclerosi sistemica adulti il trattamento con bosentano va iniziato alla dose di 62,5 mg due volte al giorno per quattro settimane poi aumentato alla dose di mantenimento di 125 mg due volte al giorno le medesime raccomandazioni si applicano alla reintroduzione di bosentano dopo l'interruzione del trattamento vedere paragrafo 4 4 l'esperienza derivata da studi clinici controllati in questa indicazione ha limitata a 6 mesi vedere paragrafo 51 la risposta del paziente al trattamento è la necessità di una terapia continuativa dovrebbero essere rivalutate ad intervalli regolari deve essere effettuata un'attenta valutazione del beneficio barra rischio prendendo in considerazione la tossicità epatica del bosentano vedere paragrafi 4 4 e 4 8 popolazione pediatrica non esistono dati di sicurezza ed efficacia in pazienti sotto i 18 anni di età non ci sono dati di farmacocinetica disponibili per bosentano in pazienti pediatrici con questa malattia popolazioni speciali compromissione epatica bosentano ha controindicato in pazienti con disfunzione epatica da moderata grave vedere paragrafi 4 3 4 4 e 5 2 non ha necessario modificare la dose per i pazienti affetti da lieve compromissione epatica cioè a classe a di killed pug vedere paragrafo 52 danno renale nei pazienti affetti da danno renale non ha necessario modificare il dosaggio non ha richiesta nessuna modifica del dosaggio per i pazienti sottoposti a dialisi vedere paragrafo 52 anziani non ha necessario modificare il dosaggio in pazienti oltre con età superiore a 65 anni modo di somministrazione uso orale le compresse vanno somministrate per via orale alla mattina e alla sera a digiuno o a stomaco pieno le compresse rivestite con film devono essere deglutite con acqua controindicazioni ipersensibilità al principio attivo ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati nel paragrafo 61 compromissione epatica da moderata grave cioè a classe b o c di killed pug vedere paragrafo 52 valori basali di aminotransferasi epatica cioè a spartato aminotransferasi ast e barra o alanina aminotransferasi alt tre volte maggiori rispetto al limite superiore della norma vedere paragrafo 44 uso concomitante della ciclosporina vedere paragrafo 45 gravidanza vedere paragrafi 44 e 46 donne in età fertile che non usano un metodo di contraccezione affidabile vedere paragrafi 44 45 e 46 avvertenze speciali e precauzione di impiego l'efficacia di bosentano non è stata stabilita per i pazienti affetti da grave ipertensione arteriosa polmonare è necessario considerare il passaggio ad una terapia raccomandata per la fase grave della vedi la scheda tecnica del farmaco rcp completa accedi al sito www.codica.it interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione il bosentana un induttore degli isoenzimi del citocromo p450 chip chip 2 c9 chip 3 a 4 dati in vitro suggeriscono inoltre un induzione di chip 2 c19 di conseguenza le concentrazioni plasmatiche delle sostanze metabolizzate vedi la scheda tecnica del farmaco rcp completa accedi al sito www.codica.it interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale prima di prendere bosentano gli insieme ad altri farmaci come euros bear unavir accord compresse rivestite euro euro speffr una vira euro bindo compresse rivestite euro a euros bear unavir dottore reddice compresse rivestite euro europe una dire gaeuro europe manera di crita compresse rivestite euro euro speffr una dire milan compresse rivestite euro a euro sbero navi il sandwich compressero i vestiti era a euro a euro sbero navi una dí TroX 2 euro a euro sbero nav transferred € EUR a euro salutities a Euro a euro sceglie unwitra a Euro a euro brezzi sta compressa euro a euro sprezzi sta sospensione euro a euro si le zucca euro a euro selv��릴게요 euro a euro sintuza euro euro Sberden a fila corda Euro auro Sberden a fila resta farma A euro a EUROS VERDE NAFIL ARISTO A EURO, EUROS VERDE NAFIL DOC A EURO, EUROS VERDE NAFIL EXTED A EURO, EUROS VERDE NAFIL EG A EURO, EUROS VERDE NAFIL CRICA A EURO, EUROS VERDE NAFIL MILAN A EURO, EUROS VERDE NAFIL PENSA, COMPRESSOR DISPERSIBILE A EURO, EUROS VERDE NAFIL PENSA, COMPRESSOR RIVESTITA A EURO, EUROS VERDE NAFIL SANDOZZ A EURO, EUROS VERDE NAFIL TEVA GENERIX A EURO, EUROS VERDE NAFIL TEVA ITALIA A EURO, EUROS VERDE NAFIL ZENTIVA A EURO, eccetera chiedi al tuo al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere bosentan milan durante la gravidanza e l'allattamento posso prendere bosentan milan durante la gravidanza e l'allattamento gravidanza studi su animali hanno evidenziato una tossicità riproduttiva terratogenicità embriotossicità vedere paragrafo 53 non sono disponibili dati adeguati sull'uso di bosentan in gravidanza poichà copyright non si conosce ancora il vedi la scheda tecnica del farmaco rcp completa accedi al sito www.codica.it effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari non sono stati condotti studi specifici per valutare l'effetto di bosentan sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari tuttavia bosentan può indurre ipotensione con sintomi di capogiri visione offuscata o sincope che potrebbero alterare la capacità di guidare o di usare macchinari effetti indesiderati in 20 studi controllati con placebo condotti per varie indicazioni terapeutiche sono stati trattati con bosentan 2486 pazienti a dosaggi giornalieri compresi 300 mg e di 2000 mg vedi la scheda tecnica del farmaco rcp completa accedi al sito www.codica.it sovradosaggio il bosentana ha stato somministrato in dose singola fino a 2400 mg a soggetti sani e fino a 2000 mg al giorno per due mesi a pazienti affetti da una patologia diversa dall'ipertensione arteriosa polmonare la reazione avversa più accomunimente riscontrata ha stata la cefalea di intensità lieve moderata un forte sovradosaggio potrebbe provocare ipotensione pronunciata con necessità di supporto cardiovascolare attivo durante il periodo post marketing ha stato riportato un caso di sovradosaggio di 10.000 mg di bosentan presi da un paziente maschio adolescente che ha avuto sintomi di nausea vomito ipotensione capogiri sudorazione visione offuscata il paziente sia completamente ripreso entro le 24 ore con supporto cardiovascolare nota il bosentana non viene rimosso dal circolo dalla dialisi proprietà farmacodinamiche gruppo farmacoterapeutico antipertensivi antipertensivi per l'ipertensione arteriosa polmonare codice at c02 kx 01 meccanismo d'azione il bosentana un duplice antagonista dei recettori dell'endotelina era con affinità per i recettori dell'endotelina sia proprietà farmacocinetiche alla farmacocinetica del bosentana stata documentata principalmente nei soggetti sani i limitati dati ottenuti nei pazienti mostrano che le concentrazioni di bosentana i pazienti adulti affetti da ipertensione arteriosa dati preclinici di sicurezza uno studio sulla cancerogenicità di due anni condotto su topi ha evidenziato un aumento dell'incidenza combinata di adenomi e carcinomi epatocellulari nei topi maschi ma non nelle femmine in presenza elenco degli eccipienti nucleo della compressa amido di mais amido di mais pregelatinizzato sodio amido glicolato tipo a povidone k 90 sodio lauryl sulfato di benato di glicerina magnesio sterato rivestimento i promellosa e 464 titanio farmaci equivalenti i farmaci equivalenti di bosentana milan a base di bosentana monoidrato sono bosentana accord bosentana eurobindo bosentana doc generici bosentana medac bosentanza bosentante la bosentanza intiva tra claire compressa rivestita fonte foglietto illustrativo ai fa agenzia italiana del farmaco le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate per avere accesso alla versione pià aggiornata si consiglia l'accesso al sito web dell'aifa agenzia italiana del farmaco grazie per avermi seguito fino a qui spero che la farmama ti sia stata utile iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini buon proseguimento ci vediamo al prossimo farmaco esaminato